La cucina c'è sempre stata, nel senso che da quando ero più piccola ho fatto sempre esperimenti in cucina come tutte le donne, come una mamma. Poi negli anni mi sono appassionata sempre di più e ho deciso di trasformare la vita abbandonando un vecchio lavoro che era curiosissimo e provando a... Poi ho iniziato molto prima di me, perché 13 anni, molto presto, io ho iniziato molto più tardi, però mi ha un po' travolta. La cucina mi ha proprio un po' appassionato, continuo a farlo con passione, forse per questo piace anche quello che faccio perché si nota forse che c'è tanto amore nelle cose che preparo e anche nelle cose che scrivo. Mi diverte ancora la parte che parlo.